da un'intervista di Michelle Unziker, una recente intervista all'interno della quale lei è tornata ancora una volta a parlare della setta, la setta all'interno della quale è stata per diversi anni, una setta che addirittura le disse se tu vorrai uscire da questa setta morirai e lei disse preferisco la morte piuttosto che restare all'interno della setta. Noi questa mattina racconteremo molte storie, ma guardate, racconteremo anche un fenomeno più generalizzato perché sono circa 4 milioni gli italiani che oggi sono all'interno delle sette, ne parliamo con Flavia Piccini e Carmine Gazzanni, buongiorno, i giornalisti autori del libro Nella setta, edito da Fandango, un libro all'interno della quale c'è uno spaccato ben preciso di quello che si vive oggi in Italia, ma ne parleremo anche con Mauro Garbuglia, buongiorno, ex braccio destro di Mario Pianesi, parleremo della setta macrobiotica, lei è stato per 28 anni all'interno di questa setta, anche Francesco Brunori conosce le sette molto bene, vicepresidente dell'associazione vittima delle sette e sua moglie è stata in un'associazione di tipo religioso. Guardate, racconteremo anche la storia di Deborah Ghio, buongiorno Deborah, vicepresidente del comitato vittime del forteto, entra nella setta a 16 anni e rimane all'interno per 5 anni, addirittura avrai un bambino all'interno della setta. Al forteto che ero incinta. Ecco, e ne parleremo tra poco, buongiorno a Irene Pivetti, buongiorno a professor Morelli, Enrico Silvestrin collegato con noi da Roma, ciao Enrico, tra l'altro Enrico Silvestrin conosce molto bene la setta macrobiotica perché ti eri avvicinato, vero Enrico, ma ne parleremo tra poco, state con noi, pubblicità, vi aspetto. E allora guardate, questa mattina vogliamo prendere spunto da un'intervista di Michelle Unziker recente al canale social Frida, all'interno della quale lei torna a parlare ancora della setta e dice, dà ancora dei dettagli davvero incredibili, no? Perché lei dice, sono arrivati a farmi credere che sarei morta qualora fossi uscita dalla setta e io ho cominciato a pensare che forse sarebbe stato meglio così, piuttosto che rimanere all'interno. Partiamo dalla sua dichiarazione per poi aprire a tanti racconti che hanno davvero dell'incredibile. Sentite. Un sorriso contagioso, quello di Michelle Unziker, è una moglie e una mamma felice, ma nel suo passato c'è tanto dolore. Era una 24enne quando una setta l'ha tenuta psicologicamente prigioniera per 5 lunghi anni, allontanandola dagli affetti più cari. Michelle ora torna di nuovo a parlare di questo brutto periodo difficile da dimenticare. Mi avevano convinta che sarei morta, mi avevano ricattato a morte e ero così convinta di volermi liberare da lì che ero pronta a morire. Creano proprio un vuoto intorno e dicono, però sei fortunata perché ci siamo noi. Una setta che la manipolava, che controllava la sua vita privata e professionale. Michelle racconta che si ricorda ogni frazione di secondo di quei momenti, che era tutto un percorso di purificazione. Una trappola di rinunce e bugie. Un giorno però è scattato qualcosa e ha alzato il telefono. Non vi voglio più vedere. Ma da lì ecco che sono arrivate subito le minacce. Va bene, e allora hai segnato la tua condanna a morte, morirai e noi ti rovineremo. Michelle non si è fatta intimorire. Da quel momento racconta lei è come se un sasso in pochi secondi le fosse sceso dal cuore, liberandola dalla morsa di una setta che non l'ha fatta vivere negli anni più belli della sua giovinezza. E mette tutti sull'attenti. Adesso è difficile che mi freghino. In un libro ha raccontato tutta la storia. Per se stessa sì, ma soprattutto per gli altri. È la speranza che rivelare le mie fragilità possa aiutare gli altri a non commettere i miei stessi errori. E perché torniamo a parlarne? Perché è un fenomeno, ahimè, diffusissimo. Sono circa 4 milioni gli italiani che ancora oggi si trovano all'interno delle sette e che magari sono in difficoltà, non sanno come uscirne. Come si entra in una setta? Perché veniamo avvicinati? Quali sono le modalità? Ne ha parlato proprio Michelle Unzi che era da noi a mattino 5. Io parto con questa clip e poi vi faccio sentire una testimonianza davvero incredibile che è qua in studio, che si chiama Deborah. Sentite. Il modo che hanno tutte queste psicosette, esattamente lo stesso per tutti, è quello di iniziare a darti tantissima attenzione, tantissimo affetto. Individuano, sono bravissimi, sono molto intelligenti. Quali sono i tuoi talloni da chili? Chi ha una famiglia perfetta? Nessuno ce l'ha. E quindi invece di avvicinarti alla tua famiglia ti separano. Perché il modo migliore di controllare una persona è quello di isolarla da tutti i suoi affetti in modo tale che loro possono dimostrare da una parte che hanno ragione, che in realtà tu non sei amata da nessuno. Perché poi iniziano a dirti guarda che tua mamma non ti ha mai veramente amato, guarda che tuo papà ha preferito l'alcol a te, tuo marito ti tradisce, in realtà non ti ama. E ti creano proprio un vuoto intorno e dicono però sei fortunata perché ci siamo noi. Noi amiamo proprio Michelle, la tua anima e il tuo cuore, capito? E quindi fanno questo lavoro piano 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 di brainwash, proprio di lavaggio del cervello. Quando tu sei sotto controllo, quando cominci veramente a comportarti anche un po' come vogliono loro eccetera, le poche volte che magari sgarri, quando non fai esattamente quello che loro ti dicono di fare, iniziano a punirti, ad allontanarti, a isolarti dal mondo. Perché avendo creato il vuoto intorno, nel momento in cui ti abbandonano anche loro, tu sei veramente solo. E che cos'è che vuole fare una persona che è davvero sola? Tornare là. Deborah è stato così anche per lei? Perché lei si è avvicinata alla setta del forteto. Io sono stata affidata dal Tribunale dei Minori, io sono stata messa dallo Stato nella setta del forteto. Lei aveva solo 16 anni? Sì, avevo 16 anni. Ed era in attesa di un figlio? Ero incinta. Sì, appunto attraverso il Tribunale dei Minori c'è stato questo affidamento a questa setta, questa comunità del forteto, con questo capo spirituale che si faceva chiamare il profeta, Rodolfo Fiesoli. Ecco, e a proposito di Fiesoli, che era implicato già in vicende giudiziari analoghe e concluse nell'85, vi dico che è stato condannato per abusi e maltrattamenti in appello il 26 ottobre del 2018, condannato a 14 anni e 10 mesi di carcere. Si attende adesso la seconda sentenza della Cassazione, però è a piede libero. È in una casa per anziani da Ulla, lo scorso mese è stato sorpreso insieme ad alcuni adolescenti e poi sono sette le condanne anche ad altre persone che collaboravano. Allora, diceva, lei entra in questa casa affidata dal Comune di Firenze. Sì, è stata dal Tribunale dei Minori, anche per me è stata la stessa cosa, entrare nella setta, subito questo bombardamento d'amore, subito molte attenzioni, la persona viene messa al centro, viene circuita, però è un percorso che porta a... cioè loro mi davano degli insegnamenti, c'erano delle regole all'interno di questa setta che bisognava assolutamente seguire. Le vediamo Deborah, esatto, innanzitutto vediamo con l'aiuto della grafica quali sono le regole del forteto. Rodolfo Fiesoli si faceva chiamare il profeta, rigorosa separazione tra uomini e donne, vietata l'eterosessualità, osteggiato ogni rapporto con la famiglia d'origine, vietati i rapporti interpersonali con l'esterno, il lavoro nella cooperativa era obbligatorio. Lei partorisce il suo figlio, dopo pochi giorni dal parto la obbligano a tornare a lavorare. Sì, assolutamente, io partorisco mio figlio, esco a mezzogiorno dall'ospedale, a due giorni dal parto e alle due mi portano in caseficio a suon di calci e schiaffi ovviamente perché io non ci volevo andare, oltretutto mio figlio aveva l'ittero e quindi l'avevano trattenuto in ospedale e non mi hanno fatto stare con lui. Io non ho fatto un giorno di maternità, un giorno di gravidanza, al forteto si lavorava sempre, oltretutto senza retribuzione. Oltre a questo lei viene obbligata a dichiarare che il padre naturale di suo figlio è il Fiesoli. È il figlio di Rodolfo Fiesoli, sì, perché al forteto avevano inventato questa famosa famiglia funzionale dove un padre e una madre che non avevano niente a che fare tra di loro si prendono cura di un bambino, ma mio figlio un padre ce l'aveva ed era al di fuori del forteto. Diciamo che la setta è riuscita a farmelo mandare via, me l'hanno cacciato via e quindi io non l'ho più incontrato. A loro gli raccontavano che io non lo volevo vedere, non ci volevo stare e quindi appunto i Rodolfo Fiesoli hanno cominciato a mettermi questa figura di suo figlio come padre di mio figlio e mi hanno convinto nel tempo di fare questo falso riconoscimento di paternità. Lei viene allontanata dalla setta, dal forteto, il bambino però rimane all'interno. Io riesco a scappare dal forteto quando mio figlio ha 5 anni, però non riesco a portare via mio figlio e oltretutto nel momento in cui uno è all'interno di una setta io ero convinta di essere io quella sbagliata, di non riuscire ad accettare quelle regole, per cui mi ci è voluto tanto tempo per riuscire a capire se fossi io quella sbagliata oppure no e loro avevano in mano mio figlio, io ero terrorizzata perché il forteto era una potenza e io non ero nessuno praticamente e quindi diciamo il primo anno l'ho visto pochissimo e dopo successivamente sono riuscita a vedere mio figlio, però non sono riuscita a denunciare, soltanto 9 anni dopo quando ho incontrato altri fuoriusciti mi sono fatta forza dopo l'arresto del Fiesoli e allora a quel punto ho denunciato e sono riuscita a portare via mio figlio. Con il quale ancora oggi ci sono rapporti difficili, no? Sì, purtroppo lui è stato all'interno della setta per 14 anni, vede ancora questo padre funzionale Marco Fiesoli e è un percorso lungo e doloroso, difficile. Senta Deborah, mi spiega il divieto all'eterosessualità? Sì, allora all'interno del forteto c'era questa separazione tra gli uomini e le donne che praticamente era una comunità fatta ad hoc per il Fiesoli perché il Fiesoli dopo abusava di questi bambini e quindi doveva distruggere la famiglia perché la famiglia di per sé era un pericolo per lui in sostanza e quindi erano vietati questi rapporti solosessuali e c'era la costezione di avere rapporti omosessuali praticamente. Quindi anche lei veniva obbligata? Sì, c'era una sorta di insegnamento da parte delle donne che insegnavano ad avere questi rapporti perché secondo... Mi ho scusato, sono molto emozionata. No, si immagini, guardi, anzi sta raccontando delle cose terribili quindi immagino che anche per lei sia complicato, no? Sebbene siano passati tanti anni ma credo che la ferita sia ancora dolorosa, no? Sì, secondo le regole del Fiesoli soltanto attraverso i rapporti omosessuali si poteva vivere il rapporto, l'affetto vero ma invece al di fuori del forteto era tutto il male e c'era questo distacco appunto dalla famiglia, questa separazione tra gli uomini e le donne e queste cose. E questa, quella del forteto, non è l'unica realtà perché tra un attimo vi faccio sentire altre situazioni gravissime che hanno vissuto persone ospiti qui in studio da me, immaginiamo quanti ancora sono all'interno delle varie sette sparse in tutta Italia. Sentite che cosa racconta Michel Unzi che era ospite qui da noi marzo scorso quando proprio raccontava delle regole della setta della quale faceva parte, sentite. Le regole erano la purezza, cioè lei, Clelia e tutta, diciamo, tutto il gruppo ma soprattutto il maestro, lei si faceva chiamare maestro, predicava la purezza, cioè io ovviamente ero il mezzo per portare il messaggio alla gente ma non dicendo, parlando, perché tu ti ricordi quando io ero in questo periodo mai e poi mai ho parlato di quello che stavo vivendo, però io dovevo essere il messaggio e quindi attraverso un lavoro di grande postificazione che consisteva nel mangiare ovviamente pochissimo, solo integrale, niente carne, tutte queste robe qua, attraverso l'astinenza sessuale, vada bene, ne avevo 23 di anni e dai 23 ai 26, ai 27 sono stata lì dentro e loro mi facevano praticare la totale astinenza sessuale perché dovevo sublimare la sessualità in modo tale da essere più pura possibile. Ero proprio lì già, io ci credevo, volevo essere una persona migliore, volevo fare questo percorso, ero convinta che fare questo mestiere, tra l'altro lei predicava cose giuste, però era quello che faceva che era violento, era terribile, c'è queste punizioni, era il controllo, il potere che esercitava, però io ero ligia, quindi un soldatino, ta 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 ta, non ho più toccato un dolce ma gli zuccheri zero. Mauro Garbuglia, allora lei entra a far parte della setta macrobiotica e rimane all'interno per 28 anni, 28 anni, allora la setta è quella di Mario Pianesi, la procura di Ancona ha indagato per associazione a delinquere finalizzata alla riduzione in schiavitù, il Pianesi, altre tre persone che facevano parte della sua associazione, è una psicosetta questa, tutto esploso nel marzo 2018, ma fino ad allora nulla si sapeva. Regole anche qui assolutamente ferre. Mi racconta com'era la sua giornata? La giornata veniva scandita da un insieme di regole che condizionava la vita dell'adepto dalla mattina fino alla sera, alzarsi dal letto col piede sinistro, fare una preghiera in difesa del capo, nel lavoro, mettere per esempio in tavola, deposati in un certo modo, tutto era schematizzato. Lo scopo chiaramente era quello di condizionare totalmente l'adepto e portarlo ad adottare un modo di vita totalmente diverso da quello precedente, perché l'allontanamento dalla famiglia, dall'amicizia, era fortissimo anche nella nostra... Quello è un classico che poi ritorna in ogni setta. Allora guardi, la interrompo un attimo per vedere le regole alle quali faceva cenno lei. Allora, nella setta macrobiotica era vietato ballare, ascoltare musica, ridere ad alta voce, tagliarsi i capelli e le unghie se non di martedì e giovedì, mettere anelli al dito indice, usare accendini di colore bianco per gli incensi, avere tempo libero. E poi, non è finita qua, era vietatissimo criticare Mario Pianesi, scendere dal letto col piede sinistro, usare il deodorante o le scarpe da tennis, parlare inglese o tedesco, infilare i vestiti dalla destra, che vuol dire i vestiti dalla destra? Cioè, la giacca dalla parte destra. Andiamo avanti, c'è altro, guardate qua, me ne mettete nella... grazie, ridere mostrando i denti era vietato alle donne, vestirsi di viola, di verde o di rosa, tenere i capelli sciolti e tinti, lavarsi nel periodo mestruale, questo era vietato, evidentemente, no? L'igiene, questa sconosciuta, farsi la ceretta, usare il rossetto, ma fare sesso prima di tre anni di fidanzamento, fare sesso con la luce accesa, usare la pillola anticoncezionale, acquistare un armadio appena sposati, avere specchi in camera da letto, ma sono cose folli. Scusa Enrico, ma anche tu ti eri avvicinato a questa setta? Allora, premetto che io mi sono avvicinato ad un'alimentazione, non c'era nulla che potesse far pensare che fosse una setta, se non un atteggiamento settario delle persone che erano dentro. Io ho conosciuto dei capi gruppo, dei capi zona, dei capi centro, scusami, si chiamano così, a Roma, e ho iniziato a frequentare questo ristorante dove i prezzi erano estremamente convenienti, mangiavi anche con 6 euro, ai tempi mi pare che con 8 mila lire mangiavi, e quindi tante persone del quartiere, era un quartiere anche piuttosto popoloso di Roma, andavano a mangiare lì, per esempio le forze dell'ordine mangiavano credo con 3 mila lire, quindi attiravano tante persone proprio per i prezzi competitivi, e molti si tappavano il naso perché purtroppo erano costretti a mangiare cose molto sciape. Però io mi sono avvicinato chiaramente non per necessità economiche, ma per una scelta di vita, e trovavo che fosse molto fondata. Mario Pianesi non ha inventato nulla, è stato semplicemente il portavoce in Italia, quello che ha fatto sbarcare la macrobiotica in Italia, lui era un allievo di un maestro giapponese che si chiama Giorgio Osawa, che per carità ha sempre parlato di alimentazione bassa, la macrobiotica è la cucina d'elite del Giappone, in realtà non c'è niente di innovativo, è una dieta vegetariana, ma non necessariamente servivano pesce, anche se su richiesta, e l'unica cosa che mi colpiva era questo forte proselitismo, ti spiegavano come dovevi mangiare, c'era un rifiuto di tutto quello che era chimico. Il principio è semplicissimo della macrobiotica, quando tu mantieni l'acidità del tuo sangue a 7.3, il tuo metabolismo funziona al massimo. Enrico, guarda, va benissimo, ma la dieta può anche starci, è tutto quello che c'era intorno, la denuncia poi, voglio ricordare, è partita da una donna che era arrivata a pesare 38 kg, era praticamente in punto di morte, io ne pesavo, guarda, io peso intorno agli 80 kg, io ne pesavo 60 kg. Tu ne pesavi 60 kg, è appunto, quindi insomma... Pesavo 68 kg, ero sicuramente molto magro, ma stavo anche molto bene. E' vera una cosa, noi ci sono 5 diete nella dieta macrobiotica di Mario Pienesi, a noi al ristorante veniva somministrata la dieta 4, ci sono quelle più rigide che sono la 1 e la 2 che pare abbiano un forte effetto curativo così ci venivamo. Sì, però il punto, voglio tornare ancora lì Enrico, non è tanto le diete, le diete va bene, ci sta ognuno poi insomma, anche qui però bisogna fare sempre molta attenzione rispetto a questo, però il punto è che quello che ho raccontato io non era esattamente un regime alimentare, punto, e c'era tutto il resto, perché Mauro, scusa Enrico, lei quanto è arrivato a pesare, Mauro? 48 kg. 48 kg, ma vi sembra una cosa normale? A me no, sinceramente. Il punto è che il signore è uno dei 90.000 associati che occasionalmente andava a mangiare negli ristoranti. Che è una cosa diversa però, non c'entra nulla. Perché c'è una piramide degli adepti che solo chi era veramente degno diventava adepto, non è che tutti potevano diventare adepti, perché bisognava essere in condizione di essere manipolati. Il signore, per sua fortuna, non stava in quella condizione, pagava 4 euro, 6 euro per mangiare Cisani. Sì, ma sono stato anche volontario, io ho anche lavorato. Niente da dire su questo. Cioè, hai anche lavorato dentro, ma è vero che tutti criticavano perché arrivavi magari coi capelli col ciuffo tinto, eccetera, ti dicevano così non va bene, quindi avevano iniziato anche con te, no? C'erano delle cose strane. Si poteva fumare, era una cosa particolare. C'era un'attenzione, allora era uno dei primi posti dove non potrevi entrare col cellulare, c'era un'attenzione verso le onde elettromagnetiche, eccetera. E praticamente noi dovevamo stare col telefono spento, ma c'erano diverse attenzioni anche nei confronti dell'olio a tavolo, del sale o cose del genere che venivano amministrate, anzi somministrate soltanto dal personale. Non potevi metterti tu l'olio liberamente a tavola, non te lo portavano niente. E a te andava bene, cioè non dicevi niente. No, 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 certo, però sai, tu capivi che c'era qualcosa di particolare. Le cose particolari erano appunto questo, rifiutare le medicine, tutto quello che era chimico. Quindi se tu avevi un raffreddore, la macrobiotica ti avrebbe curato. È vero, io non mi sono mai preso in quattro anni un raffreddore. No, guarda, però non diamo questo tipo di messaggi, eh? Perché, attenzione, attenzione, Enrico, attenzione, tu non ti sei mai ammalato perché sei stato fortunato in quattro anni. Allora, posso risponderti su questo perché mi tocchi su un tema vivo, mi tocchi su un tema vivo. Mia madre si ammalò di cancro, io la portai al punto macrobiotico, proprio appena ammalato per cambiarle soltanto l'alimentazione. Sì, però tua madre continuava a fare la chemioterapia. Per cambiarle soltanto l'alimentazione, mia madre faceva la chemioterapia, spinta anche da me, non le avrei mai detto di passare ad alto. Tra l'altro, soltanto la dieta 1 era quella che dicevano che ti poteva curare, che è fatta da crema di riso e tè bancia. Ti nutri soltanto di questo. Quindi è chiaro che arrivi a pesare 35 kg e non c'era nessuna prova scientifica di effetti curativi di tutto questo. Era sempre per sentito dire. L'altro problema erano le persone che vicolavano questi messaggi. Chi lavorava in questi ristoranti, gli adepti che aprivano i punti macrobiotici, normalmente erano persone che avevano forti disagi. O ex-eroinomani, ex-prostitute, persone comunque con forti disturbi, persone salvate dalla macrobiotica in cui mettevano in bocca potenziali informazioni su chi? Su quelli che andavano a disparnare. E quindi facilmente plagiabili. Un altro aspetto importantissimo era la questione economica, no? Perché, Mauro, poi anche il fattore denaro era importante. Perché? Tutto si fonda su un sistema economico in cui l'unico da vantaggiarsi era i pianesi. I prezzi politici che si facevano negli ristoranti servivano per avere potenziali adepti. Non era in funzione sociale. Certo, serviva per attirare, no? I responsabili dei centri, i capi centro, si indebitavano facendo quei prezzi a vantaggio di chi? Di pianesi, il quale aveva centri di grosso che forniva tutti i prodotti, tutte le attrezzature, tutto quello che serviva ad attività economiche, le forniva attività dello stesso pianesi. Per cui tutti i soldi andavano lì. Le attività culturali andavano tutte a capo. Per cui chi stava sotto si indebitava solo a favore del capo. Allora vi faccio sentire che cosa dice a proposito della questione economica Michelle Unziker, che anche lì, insomma, lei traccia un profilo molto preciso di quello che le accadeva. Sentite. Mi fanno aprire un'agenzia a spese mie dove davo da mangiare a tutti loro. In che modo? Parlami dell'aspetto economico. Cioè tu pagavi anche gli altri, pagavi tutti, occupavi di... Assolutamente. Anche quella era una purificazione. Perché loro, nell'ambito olistico, nell'ambito dell'esuttirismo, eccetera, dicono e ti insegnano che la materia, cioè i soldi, sono un'energia importantissima che va fatta girare, va fatta circolare. E che l'energia materica, cioè materia proprio stagna, può creare delle malattie, delle morti, delle cose terribili. E quindi è un discorso, se ci pensi, anche buono. Cioè fai girare i soldi, non tenerli lì, eccetera. Con questa scusa, ovviamente, dice uno... Oh, deve tirare fuori i soldi perché è te porrefiche, capito? Così almeno fai del bene a te stessa. Quindi apri l'agenzia, dai da mangiare a loro, lui diventa manager, lei gestiva tutti i figli, le cose. E quindi... E quindi anche da quel punto di vista, insomma, ti inducono a entrare sempre di più in questo meccanismo. Certo, certo. Io ovviamente avevo messo i soldi, apro questa società, ma poi ho dovuto ritirarmi e intestarla loro. Quindi insomma c'è l'aspetto economico, c'è l'aspetto familiare, ci sono storie poi diverse. Ci sono storie anche di persone che poi non necessariamente desiderano mostrarsi, come il caso dell'ospite che ho qui in studio e che ringrazio. Buongiorno. Buongiorno a te. Perché a volte non è facile raccontare, no? Non è facile metterci la faccia per tanti motivi. Lei è stato all'interno di una setta di stampo religioso, diciamo per un arco di tempo di circa 25 anni, quindi davvero tanto. Ho iniziato a frequentare questo gruppo dalla seconda metà degli anni 90 ed è un gruppo particolarmente interessante perché si articola in organizzazioni religiose, organizzazioni che si presentano con corsi di yoga, organizzazioni che si presentano addirittura con dei progetti per diffondere la pace nel mondo e andandoli a proporre ai nostri figli, alle nostre figlie nelle scuole di tutta Italia. Quindi apparentemente dei corsi normalissimi, salvo poi invece, no? Come dire, nascondere ben altre finalità. Senta, è vero che c'erano matrimoni combinati all'interno della setta? Lei addirittura si è sposato così? Sì, io anche mi sono sposato così. Ho avuto la fortuna e ho tuttora la fortuna di avere una splendida moglie con la quale condividiamo vita e valori importanti. Il discorso purtroppo non risiede principalmente nelle religioni le quali per motivi di diritti umani sono inattaccabili. Il problema è nelle strutture di persone, nelle orgarchie familistiche che gestiscono e adoperano il mantello religioso per coprire i loro affari, veri affari che sono appunto quelli del ritorno economico che poi genera un indotto delle dinamiche che sono il vero motivo per cui questi fenomeni oggi in Italia sono così diffusi e così inattaccabili. Senta, ma poi a un certo punto nel 2015 chiudono una casa famiglia che ospitava dei minori minori che dovevano essere ospitati lì nel modo migliore e invece vivevano una situazione di forte degrado e disagio. Lei in quel momento è come se aprisse gli occhi e si rendesse conto che evidentemente non tutto funzionasse. Non tutto funzionasse. E quindi che cosa decide di fare? E quindi io da quel momento, avendo presente quanto apprendevo su questi fatti davvero scioccanti dalla stampa e quanto invece questi signori andavano raccontando sulle medesime vicende, ho iniziato ad interessarmi investigando personalmente presso amministrazioni anche pubbliche per avere un quadro più completo della situazione. Le mie azioni, ahimè, hanno attirato l'attenzione delle controparti che naturalmente, come dire, hanno fatto quanto hanno potuto per evitare che io ficcanazzassi troppo nei loro affari. Ho subito ritorsioni di parogenere, ho subito e mi hanno, diciamo, rivolto delle frasi che ho ritenuto intimidatorie. Ma oggi la SET esiste ancora? Oggi questa organizzazione che, diciamo, meriterebbe molta più attenzione, oggi è tuttora operante non solo in Italia, ma in molti paesi del mondo. Quante persone sono all'interno? Beh, io non ho dei dati precisi anche perché, insomma, poi si finisce per non essere corretti, ma direi che, appunto, il problema è che molto spesso, soprattutto per i grandi gruppi, ci troviamo di fronte a delle vere e proprie multinazionali settarie, cioè dei soggetti che articolati con diverse associazioni in varie parti del mondo riescono a fare lobby e, appunto, a trovare il favore oggi dei politici, domani dell'impresa, dopo domani. Allora, io la ringrazio molto per la sua testimonianza. e apre questo anche a un'immagine, no, della nostra Italia dal punto di vista delle Sette. Noi prima dicevamo circa 4 milioni italiani sono all'interno. Cerchiamo di fare un po' il punto. È il paradiso delle Sette in Europa. Lei lo chiama il paradiso delle Sette. L'inferno, forse, delle Sette. Vediamo. Simone Carini, sentite. Separano gli individui da se stessi, dai loro ambienti vitali, dalla famiglia e dal lavoro. Non esiste una definizione universalmente accettata di Sette. Gli obiettivi principali di queste associazioni, però, sono quasi sempre di carattere sessuale o monetario. Sarebbero oltre 500, secondo le ultime stime, le Sette attive nel nostro paese. Oltre 13 milioni di italiani si sarebbero rivolti, di persona o sul web, a guaritori, santoni e guru di varie tipologie. Del resto, anche se nell'immaginario collettivo la parola Sette si sposa al satanismo, non tutte queste reti sono legate alla religione. Il 41% sono psicosette, gruppi che promettono il potenziamento della propria mente. Il 30% si dedica a spiritismo e culti estremi. Il 16% delle Sette sono magico-esoteriche, mentre il 13% è di carattere pseudo-religioso. Un incubo che troppo spesso porta le vittime a impoverire le proprie tasche e ad allontanarsi dai propri cari. Gli ultimi dati testimoniano che gli uomini sono più colpiti delle donne e molto di frequente si tratta di professionisti affermati. Le richieste di aiuto delle vittime arrivano in prevalenza dal nord Italia e sono quasi raddoppiate negli ultimi dieci anni. Secondo gli esperti, i numeri di queste associazioni e degli affiliati sono decisamente aumentati con il passare degli anni, in una spirale sempre più pericolosa, dalla quale uscire è spesso complicatissimo. Allora Morelli, perché ci si avvicina a una setta? Stabiliamo una cosa importante, che noi realizziamo noi stessi nell'indipendenza. La psicoterapia, la psicologia è fatta per questa, per renderti indipendente, libero anche dalla persona da cui vai a curarti. Due, nei momenti di fragilità, noi qui veniamo riempiti dall'onnipotenza. Ti depuri, butti via le parti sporche di te e diventerai un essere speciale. Sei già un essere speciale, ma io ti renderò ancora più speciale. Tutte parlano sempre dei soldi, perché alla fine profeti non ce n'è, maestri non ce n'è. Bisogna averlo ben chiaro. E ascoltare soprattutto la voce interna, perché, lo dice bene Michel, all'inizio c'è qualcosa che ti dice ma cosa sto facendo, dove sto entrando. Ognuno di noi ha un navigator interno, una guida interiore. Quando ci si stacca, è perché la si ascolta, si comincia a dire ma io dove sto andando. Si prova un fastidio, no? Ecco, allora, ricordarsi che non devi migliorare. Bisogna che scriviamo a lettere cubitali. Nessuno di noi deve migliorare, ma realizzare la sua strada, col tuo carattere, anche brutto, avere cura delle cose che non ti piacciono. Allora nessuno ti potrà più manipolare. Senta, Francesco, Francesco Brunori, lei oggi è vicepresidente dell'Associazione delle Vittime delle Sette. Lei è stato coinvolto su Malgrado, perché sua moglie si è avvicinata a una setta di stampo religioso. Inizialmente non sembrava così, no? Sua moglie dice ma voglio avvicinarmi a questa disciplina religiosa, senza dire quale. Salvo poi rimanere all'interno. Vi faccio una brevissima premessa. Io ringrazio anzitutto il sito di stato invitato, ma si parla di 4 milioni di adepti, no? Ehi, quanti sono i familiari? La domanda? 8, 16, 20. Perché ci sono padri, madri, figli, che comunque gravitano intorno all'affetto principale, no? E che questo è il vero dato drammatico, secondo me. Detto questo, la mia storia è molto, se vogliamo, banale. Come diceva Michel, crisi familiari, chi, dov'è la famiglia perfetta? Non esiste. Si tratta di avere dialogo, di costruire un qualcosa, il futuro, noi, io ho tre figlie. Piano piano capisco che c'è qualcosa che non va. Quando mi viene detto che vuole fare una disciplina di stampo religioso orientale, io non ho niente in contrario, assolutamente. Però, con il passare del tempo, perché è un processo lento, cosa succede? Ci sono dei cambiamenti, negli atteggiamenti, nelle parole, no? Quindi delle incomprensioni, che diventano sempre più dei problemi. Finché non scoppia il bubone, è tutto... Cosa succede? In molti casi la famiglia si separa. Nel mio caso, con mia moglie, no, perché noi siamo unitissimi. Però sua moglie viveva in casa, non viveva nella comunità. Non c'è comunità in questo caso. Perfetto. Quindi lei tornava a casa e recitava dei mantra, è vero? Sì, l'obbligo è di recitare due ore la mattina, due ore la sera. E poi tentano di venire in casa, ovviamente. Io alle sette di mattina, alle sette e mezzo, non posso vedere gente. Quando c'è da preparare la roba per la scuola, come tutte le famiglie, no? Fare colazione, con gli avanti, con gli indietro. Certo, certo. Ecco. Poi è durato poco da me questa situazione, perché io non l'ho sopportata subito l'invasione in casa. Perché a un certo punto, anche suo figlio, no? Se non sbaglio. No, 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 no. E' stato trovato però, mentre recitava? La mia piccola è stata trovata, mentre recitava da sola, davanti al camino, perché i bambini a quell'età sono delle spugne. Certo. Ma giocava. Lei lì però non ci ha visto più, ha preso in mano la situazione e cosa ha fatto? Ma io ho fatto una cosa terribile. Me ne pento dopo tanti anni e ne provo anche una certa vergogna. Invece di reagire in maniera positiva, sono fuggito con la piccola, lasciando mia moglie in uno stato di costernazione assoluta. E guardi, mi impianto l'emozione perché è stata la cosa più brutta che potevo fargli. Cioè, è come un rapimento, come posso spiegarmi? No. Niente, poi sono tornato, abbiamo ricominciato nella filosofia che la goccia scava anche la pietra, no? Cavat Lapidem. Bravissima e in questo sistema, piano piano, dopo molti anni, no? Diciamo che si è un po' dissolto come neva il sole perché io non permettevo, lei non poteva. Però lei è stato molto presente, molto vicino, ha avuto anche la fortuna che sua moglie ha continuato a vivere in famiglia, ovviamente. Assolutamente perché per noi era un pilastro la famiglia. L'amore che abbiamo in famiglia non ci ha salvato entrambi. Perché poi, Irene, è anche difficile, giustamente, no? Diceva Francesco, è difficile gestire anche qualcuno che si avvicina a questo tipo di setta. Quindi tutto il nucleo familiare alla fine è implicato. Sicuramente, anche perché la famiglia, come ormai sentiamo da tutte le storie invariabilmente, è una grande protezione per ciascuno. Quindi tra le vittime delle sette vanno sicuramente inclusi i familiari di queste persone, delle persone che sono poi tecnicamente coinvolte nelle sette. Devo dire che ci sono state dette, questa mattina, alcune cose che mi hanno particolarmente impressionata. Non soltanto fare moltissima attenzione a questi aspetti pratici dei soldi che, quando si è presi nella fascinazione di una setta, sembrano quasi una cosa vile, che invece sono proprio lo scopo primario di chi mette in piedi queste macchine di morte. Ma la storia di Deborah mi ha moltissimo impressionata per il fatto che lei dice di essere stata affidata dal Tribunale dei minori a questa sette. Il che ci riporta ad un'analisi che deve essere approfonditamente rifatta di quali sono i soggetti a cui poi lo Stato affida le persone che sono in condizioni di fragilità. Perché una storia di questo genere non deve accadere in nessun modo. Allora, la sessualità, oltre al denaro, anche queste regole sessuali nascondono sempre, in quelli che chiamiamo i profeti, delle profonde anomalie sessuali, come la pedofilia, eccetera. Le storie del macrobiotico sono da maniaco del controllo, cioè è chiaro che ci stanno a capo di molte di queste organizzazioni, ci sono delle persone che non possiedono alcuna forma di equilibrio. In genere questi leader... Il problema è che li canalizzano a fare danno a soggetti. In genere questi leader hanno paura dei loro demoni e quindi fanno delle regole per gli altri, in modo che rispettandole gli altri loro possano essere poi liberi di vivere quelle che sono i loro mostri interiori. Mi ha copito molto una cosa che voi scrivete, Flavia e Carmine, all'interno del vostro libro, nella setta. Voi dite, 4 milioni di italiani potrebbero essere l'edicolante sotto casa, il lattaio, il panettiere, il nostro vicino di casa, persone che conducono una vita apparentemente normale e poi invece fanno parte di queste sette. È un fenomeno così diffuso? È un fenomeno capillare che viene poco indagato e che prospera, tanto da farle effettivamente diventare l'inferno delle sette, perché c'è un vuoto normativo. Cioè nel nostro paese non esistono delle leggi che tutelano le vittime. Il reato di plagio è stato abolito nel 1981 e quindi a partire da lì c'è un vuoto giuridico importante. E soprattutto le vittime non trovano un sostegno perché nel momento in cui tu non sai dove andare, non sai da chi trovare supporto, ovviamente se non sei fortunato come Michel Unziker rimani dentro. E un esempio sono le storie che noi abbiamo raccolto e un altro problema molto grande è anche il silenzio, perché parlare di questi argomenti crea sempre una violenza, una macchina del fango, tanto per i giornalisti che se ne occupano, tanto per le vittime che fuoriescono e che provano a raccontare la verità. Cioè la cosa che fanno primariamente è utilizzare armi legali o armi anche pedinamenti. Noi siamo stati pedinati, siamo stati ingiuriati, siamo stati infamati, ne hanno fatte di tutti i colori perché meno se ne parla meglio è. Meno si solleva l'attenzione da parte del pubblico e più semplice è per queste organizzazioni prosperare. È stato così anche per voi, no? Lo chiedo a Deborah, lo chiedo a... E beh, certo, perché vi è stato impedito di parlare all'inizio, no? Ma non solo all'inizio, quando siamo usciti, stalking, minacce, clienti rubati, addirittura falsi accuse per un processo. Quindi la teglia bruciata è un fondamento di questi gruppi. L'unico difesa che ha la vittima sarebbe la famiglia, ma non c'è più rapporti, sarebbero gli amici, ma non c'era più. Per cui siamo nel vuoto più assoluto. Deborah, lei mi raccontava che è scappata, no? Dopo cinque anni. Come ha fatto a scappare? Perché lì controvano parecchio, eh? Come ho fatto? Con quello che avevo addosso, sono presa e sono... È uscita? Lei poteva uscire comunque? No, allora, inizialmente no, soltanto nel momento in cui ero diventata un soldato del forteto, allora a quel punto potevo avere alcuni contatti con l'esterno. Però io ho preso di sana pianta e me ne sono andata, accettando anche il fatto di poter davvero morire, come dice Michelle Hunziker, perché a di fuori del forteto, io, cioè quello che mi veniva detto era ci poteva essere la morte per me, per mio figlio. Poi non ci sbagliamo, la strada del forteto è una tragedia umana che ha convolto un miliardo di persone ed era lo Stato che affidava questi bambini al forteto in un arco di tempo di 40 anni. E voglio dire, è stato un trampolino di lancio per politici, magistrati, cioè c'è stato un coinvolgimento di persone grandissimo, tant'è vero che c'è in corso una commissione di inchiesta bicamereale che dovrà partire a breve, spero, e la cooperativa del forteto è stata commissariata, cioè la realtà economica del forteto è stata commissariata da un commissario straordinario, persona molto in gamba, Jacopo Marzetti. E se posso faccio anche un appello a questo punto perché purtroppo la setta, nonostante lui abbia posto in essere delle azioni molto forti per cacciare via i componenti della setta, cioè gli imputati che sono stati coinvolti nel procedimento penale, purtroppo c'è bisogno da parte delle istituzioni di grande sostegno e aiuto per poter terminare il suo mandato in maniera eccellente. E questo vorrei aggiungere... Devo chiudere. Sì, finisce pure. Vorrei aggiungere che se la procura magari riesce a sfidire certamente sulle false testimonianze, sarebbe un aiuto notevole per il dottor Marzetti. Va bene, raccogliamo il tuo appello. Grazie a tutti gli ospiti. Ciao Enrico, grazie di essere stato con noi collegato da Roma. Mi devo fermare qui. Grazie a tutti e a tra poco.